La Coppa dei Matrix, la Matrix Cap, una competizione di hacking tenuta in Cina con un premio di 2 milioni e mezzo di dollari ha avuto luogo giugno scorso. I team, fortemente motivati a vincere, trovano delle zero day molto spesso, cioè vulnerabilità ancora non note al pubblico nel corso di queste competizioni. Ne hanno trovata una per vCenter della VMware. vCenter gestisce centri di elaborazione di dati virtuali in tutto il mondo. Molto grave non sanare una vulnerabilità del genere in media subito, ma VMware ancora non l'ha affatto. Percepisco l'ansia a distanzia. La legge cinese richiede che la scoperta di zero day debbano essere immediatamente comunicate al governo. La vulnerabilità in sé è di privilege escalation, tramite un pacchetto è possibile diventare root in sostanza. È un heap overflow che sfrutta il protocollo DCR-PC. Pubblicamente non sembrano essere disponibili proof of concept, conosciuti anche come POC, e invece no, c'è una spiegazione abbastanza approfondita su un blog di SonicWall e sono presenti anche suggerimenti su come sanarla. VMware svelti, svelti svelti. Grazie a tutti! Grazie a tutti!